Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ho aspettato un sacco di tempo per fare questo video perché è un video unboxing di una box di cristalli e minerali che avevo ordinato ormai un bel po' di tempo fa. Questa box si chiama Enchanted Crystal, cristalli incantati, è super a mostro, e arriva dall'America, che ultimamente mi stavo interessando abbastanza di cristalli, minerali e pietre naturali, e però appunto avevo voglia di iniziare ad avere un po' una collezione, non sapevo da dove partire perché comunque costano abbastanza questi cristalli. E ho trovato questa box, io ho preso la versione da 28 dollari al mese, poi c'è anche quella da 58, mi pare che ha più cristalli. Questa qui dovrebbe avere da 3 a 6 cristalli medi, più vari cristalli piccoli e poi delle grids, che sarebbero dei pezzi di tessuto con dei disegni geometrici in cui mettere i cristalli per creare appunto delle forme geometriche di cristalli con un intento, diciamo, perché i cristalli hanno la loro energia, quindi disposti in un certo modo con un determinato intento si possono fare queste grids, diciamo. All'interno dovrebbero anche esserci spiegate un po' queste cose, io non mi sento molto in grado di spiegarvi come fare queste cose perché sto proprio iniziando a informarmi, quindi magari più avanti. Non ho ancora aperto queste scatole, le voglio aprire con voi appunto, spero che ne valga la pena, nel senso che ci hanno messo una vita ad arrivare anche perché sono state fermate in Dogana, quindi oltre ai 28 dollari della scatola, più 15 dollari di spedizione, ho dovuto pagare anche 10 euro di Dogana e tra l'altro io avevo ordinato la box di ottobre, poi si è rinnovata automaticamente anche quella di novembre, oppure settembre-ottobre, non mi ricordo. No, sì, ottobre-novembre, perché appunto queste box sono sottoscrizioni mensili che vanno in automatico, quindi se voi ne volete una sola dovete comprarne una e poi subito disattivare il rinnovo automatico che potete rinnovare quando volete, altrimenti loro si rinnovano in automatico. E niente, quindi alla fine mi sono arrivate quasi insieme perché una appunto è stata fermata in Dogana per un po' di tempo, quell'altra invece è arrivata direttamente. E niente, penso di avervi detto tutto, vi lascio nell'info box il sito, si chiama Enchanted Crystal, che oltre alla box, diciamo, alla sottoscrizione mensile, hanno anche cristalli, diciamo, che potete scegliere, perché questi ovviamente non li potete scegliere, invece hanno anche, vendono anche cristalli singoli, hanno uno shop su Etsy. Ora cambiamo l'inquadratura e vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, questa è come si presenta la scatolina e come vedete dentro c'è subito questo pezzo di tessuto che è stampato a mano da loro con la tecnica della serigrafia e trovo molto molto carino il fatto che ogni mese vi arrivi un pezzo di tessuto diverso. Qui c'è anche una piccola presentazione e quello del mese di ottobre è questa qui, questo disegno geometrico azzurro molto carino. Il bello è anche che tutto l'imballaggio è riciclabile, quindi come vedete non ci sono le bollicine, ma c'è questa carta che è carta riciclata e dentro ci sono tutti i cristallini imballati singolarmente. La prima che apro è una pirite, molto molto carina, è anche abbastanza grande, molto luccicante. Dopodiché c'è questa sudalite che è molto bella, io non penso di averla mai vista prima, blu così azzurra, molto molto bella. Poi una delle mie preferite che è questa qui, è una zeolite, molto bello perché è tutto trasparente, però c'ha anche delle parti nere e luccica tantissimo. Mi dispiace che dalla fotocamera non renda quanto sono scintillanti. Questa serenite è bellissima, ha davvero un effetto molto particolare, traslucido, riflette la luce in maniera proprio speciale, secondo me. Dopodiché c'è questo bellissimo minerale di cui ho perso l'etichetta, quindi non ricordo cos'è, però penso che scriverò all'azienda per chiedere. Dopodiché viene questa igirina, un'altra delle mie preferite, nera, molto luccicante, molto molto bella. E questi qui erano i cristalli medi e poi c'era una bustina mista di cristalli piccoli, che sono pezzettini di quarzo, calcite verde, ametista, clorite e sono tutti molto molto carini, molto piccoli, però molto carini, molto luccicanti. Magari potrei anche provare a farci qualche collana con questi, non so bene, proverò a sperimentare. E qui vedete che provo a metterli, a disporli sul disegno geometrico, qui ho fatto un po' a caso, però è per farvi un po' per rendere l'idea di come si dovrebbero utilizzare questi cristalli. Poi ognuno li utilizza un po' come vuole, dandoci lo scopo che vuole, però io trovo siano anche molto belli, molto rilassanti da tenere in un proprio spazio, diciamo un po' sacro. Ora apro la box di novembre e questa qui è la stoffa di novembre, che mi piace anche di più dell'altra, molto bella in verde, così sempre stampata a serigrafia. Ed ecco qui tutti i cristallini di novembre. Iniziamo con del legno pietrificato, che non avevo mai visto, credo, molto strano, molto bello, sembra proprio una pietra. Dopodiché c'è questa zeolite, che è una delle più belle, una delle mie preferite, perché sembra quasi madreperla, viola, con questi riflessi bellissimi, davvero particolari. Poi c'è questo quarzo, bellissimo, trasparente, e anche qui la fotocamera non rende, perché è davvero davvero bellissimo, uno dei miei preferiti. Poi questo è un altro tipo di quarzo, ora purtroppo non mi sono accorta che la fotocamera si era spenta, e quindi non vi ho fatto vedere tutti tutti i cristalli che c'erano nella seconda box. E ora provo a farvi un po' un close up. Questi qui comunque sono tutti i cristallini che ho trovato nelle box. Volevo mostrarvi anche questo ciondolo, questo bellissimo ciondolo che ho acquistato da un negozio su Etsy, che si chiama Wingo Star Jewelry. E trovate anche la pagina su Instagram, ma vi lascio comunque i link nell'info box. Questo qui è un ciondolo un po' speciale per me, perché è un'avventurina, un tipo di quarzo, ed è collegato al chakra del cuore, in particolare alla sfera della creatività, della femminilità, della forza femminile. E quindi lo porto quasi sempre appunto appoggiato sul cuore, sullo sterno. Che dire, ecco qui un piccolo close up su tutti i cristalli, che trovo veramente veramente bellissimi. Sono molto molto felice di aver acquistato queste box, però appunto non so se lo farò di nuovo, perché hanno un costo abbastanza elevato, con le spedizioni, il rischio della dogana e tutto. Però se volete iniziare un po' la vostra collezione, ve la consiglio. Spero che vi sia piaciuto guardare insieme a me questi cristalli, spacchettarli insieme a me, e spero che vi mandino un po' di energie positive, come lo stanno facendo con me. Vi mando un grosso grosso bacio, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao!